Ho immerso nella laguna dei microfoni per delle registrazioni subacquee. C'è un mondo lì sotto, io sono affascinato dalla possibilità di ascoltare quanto accade in un luogo in cui non sono presente. Questa prassi di registrazione è qualcosa che seguo da anni e ho costruito un archivio che nutro tuttora aggiungendo molte registrazioni. L'archivio pulsa, è come un essere vivente, c'è qualcosa che si muove. È un forziere di memorie e fantasmi in un mare popolato da chi voglio io. E i nostri mari sono ciò che vogliamo essi siano, profondi o meno, sabbiosi o pieni di scogli. Teo Teardo è un artista nel quale io avevo già lavorato, è un teatro fondamentale nuove, qualche anno fa. E l'avevo invitato per un progetto, anche questo è un progetto con le immagini. Perché Teo è un artista che in rapporto con le immagini lavora in una maniera sempre molto produttiva. E l'idea base è stata quella di lasciare a lui, come diciamo nelle regole di Karl Blanche, lasciare a lui la libertà di pensare a un intervento specifico esclusivo per questa Karl Blanche e poi di proporre anche una performance che sarà, come dicevo, di Fantasmagorica, una performance che non nasce con questo progetto, ma che per questo progetto viene portata in una versione speciale. Grazie a tutti. Fantasmagorica è un progetto che in qualche modo è in sintonia anche con Sea Change, la mia installazione qui è per un palazzo grassi, dove però il meccanismo è quello di creazione invece di suono di immagini. Si riferisce alla Fantasmagoria a una tecnica del cinema, prima del cinema, in un salto di più di un secolo del passato. Ed è un viaggio in un mondo in cui si costruiscono delle immagini. È un progetto che ho realizzato con MP5, un artista visiva, che si occupa appunto di tutta la parte visiva. La versione originale di questo spettacolo prevedeva una sorta di mago che ci introduce nel mondo della Fantasmagoria, spiegando quali sono i meccanismi di creazione delle immagini. E per rendere unica questa apparizione veneziana di Fantasmagorica, ho pensato che questo mago sarebbe potuto essere un regista, perché chi meglio di un regista potrebbe spiegarci come si raccontano e si costruiscono le immagini. e per rendere un regista potrebbe spiegarci come si raccontano e si costruiscono le immagini. E per rendere un regista potrebbe spiegarci come si raccontano e si costruisce il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.